buongiorno finalmente ero qui che facevo questo stradello per spostarmi da una zona che mi sembrava buona a un'altra più in basso e proprio sulla strada guardate che meraviglia adesso lo capiamo il primo del 2022 3 giugno 2022 spettacolare che dire primo della stagione meraviglia delle meraviglie sono proprio contento alla prossima ora continuiamo speriamo che si trovi qualche altra cosa